opel astra 1.4 turbo metano ecco questa nostra nostra auto ma per davvero questa è un'astra aziendale con pochissimi chilometri è un marzo 2019 1.4 turbo metano euro 6 di tempo da 110 cavalli auto spettacolare nel senso che è un'auto che è stata utilizzata veramente a scopo espositivo ma intanto andiamo ad analizzare nel dettaglio è un metano sì ma la capienza c'è sempre completamente guardate che vano carico immenso omologata ovviamente cinque posti andiamo un po nel dettaglio perché gli interni sono la sua forza allora misto pelle e alcantara che spettacolo panchina come sapete abbattibile sdoppiabile con bracciolo vetri elettrici anche al posteriore questo è un'auto molto ben allestita potete notare anche i sedili regolabili in altezza e anche elettricamente la possibilità di allungare anche questa questa parte proprio per dare il massimo massimo comfort andiamo a vedere nel dettaglio uno dei punti di forza di quest'auto che sono ovviamente i chilometri apro la porta per inquadrarveli 900 mettiamola a fuoco se ce la facciamo 916 i chilometri attuali auto perfetta cioè pari assolutamente al nuovo dotata di cruise control comandi al volante poi per tutto quello che è fonia e radio duplicazione proiezione del proprio cellulare sullo schermo climatizzatore automatico bizona cambio rigorosamente manuale sei rapporti insomma qua il tasto per passare da metano a benzina insomma un'auto veramente elegante comodissima comodissima per poter viaggiare nella massima tranquillità sempre a costi di esercizio bassissimi e non avere alcuna limitazione al traffico bollo praticamente gratuito guardate che auto venitela a vedere a provare qui da noi a 6 marce